Allora, quali sono le notizie della giornata? Quella fondamentale di tutti quanti i giornali è la candidatura di Di Maio alle cosiddette primarie del Movimento 5 Stelle e il fatto, dicono i giornali, forse il messaggero è quello che sintetizza meglio degli altri, corre Di Maio ma senza rivali. In realtà ci sono sei, sette, mi sembra, rivali, dalla senatrice antivaccini al vegano. I rivali ci sono, ma sono rivali che non possono minimamente impensierire ovviamente la leadership di Di Maio che peraltro mi sembra che quando fu eletto alle sue primarie prese 186 voti all'epoca, però oggi è diventato un altro Di Maio, un Mario che tutti quanti conosco, con delle posizioni forti e molto ben definite. Alcuni giornali mettono in evidenza come non si siano candidati gli altri big di Battista e soprattutto fico che in maniera molto polemica e contrario sia a questa candidatura sia il fatto che il candidato premia diventerà anche capo della politica. Ma il punto che mi viene a me un po', come posso dire, è questa gigantesca bolla di ipocrisia che spesso, spesso vale anche per il Movimento 5 Stelle, nei confronti del Movimento 5 Stelle. Cioè, adesso, tutta questa retorica sulle primarie, sulle democrazie interne, poi la democrazia è quella degli elettori che votano, quindi il fatto che lui si candidi sostanzialmente solidario, sì, fa parte delle gestioni di un'associazione privata molto opaca come quella del Movimento 5 Stelle, ma non mi sembra molto più trasparente la gestione delle candidature, per dire, in Forza Italia. Non mi sembra molto più trasparente la gestione delle candidature nella Lega. Non mi sembra molto più trasparente anche se si sono dati un metodo le primarie del PD che vengono fatte, rifatte, ci sono voti che non si riesce a capire, in cui ci sono i cacicchi locali che comandano. Insomma, ogni famiglia politica è infelice a modo suo. Adesso andassi a prendere sul senso che Di Maio si candida in una sorta di primarie buffone, come fa il giornale, ha un senso pratico, ma non ha, secondo me, un grande senso politico. Ancora più buffonata è quella di Saviano, che ieri cosa si mette in testa? Dice, allora mi candido anch'io. Allora, io sono dell'idea che a un certo punto o Saviano veramente si candida o sembra una presa per il culo. Cioè, perché si mette a sfottere il Movimento 5 Stelle e soprattutto Di Maio, e soprattutto sulla questione delle ONG, e soprattutto la questione immigrati, dice che si candida e poi non si candida, si candidasse. Si candidasse e avrebbe, secondo me, un grande successo, perché una parte del Movimento 5 Stelle è proprio quella roba là, cioè quella roba Saviano, cioè esiste una componente invece pro accoglienza, più pro ONG, che non è ovviamente quella di Di Maio. Vabbè, insomma, per chi fosse appassionato di questo, c'è di tutto oggi sui giornali. Un ciao dall'Indonesia, vedi qua, c'è Edna che mi vede dall'Indonesia, le do un saluto speciale, insomma, molto lontano. L'altra questione che mi fa venire veramente qui un po' lo scribizzo, è la legge elettorale. Allora, porca miseria, io ho pure fatto un esame, a me mi diceva molto diritto costituzionale, diritto pubblico, ma oggi mi sono letto i giornali, e ho letto i giornali come se fossero delle partite di calcio. Io che non capisco nulla di calcio, a parte il mio rifo, quando leggo le pagine sportive dei giornali ci capisco poco, perché danno tutto per scontato. Oggi, cazzo, mi davano per scontato. Cos'è il mattarellum rovesciato? Giornalisti che siete solo là nel palazzo, a Roma, e non capite che le persone normali non sanno cos'è il mattarellum rovesciato. E il fianum? Cos'è il fianum? E che cos'è il rosatellum? A parte il fatto che la nostra capacità di inventare i nomi, dando un po' di latino, dopo che si è inventato Sartori, è pari a zero. Non dico che ci debba essere un nuovo Montanelli, ma voglio dire, ma adesso tutti i nomi delle leggi elettorali si devono chiamare il latino dal nome di chi la presenta, mi sembra la banalità delle banalità, del pecoronismo del giornalismo. Ma la cosa che mi fa venire il sangue al cervello è che cazzo che oggi tutti quanti i giornali parlano di queste leggi elettorali come se fossimo non solo degli esperti di diritto costituzionale, non solo degli esperti di diritto elettorale, non so come diavolo si chiama, non solo degli esperti di sistema elettorale, ma dando per scontato che sappiamo tutto quello che vale per questi nomi latini, è una roba che mi fa impazzire, perché è la negazione del giornalismo. Ce l'avete con la rete, ce l'avete con Facebook, ce l'avete con i 140, ce l'avete contro le semplificazioni? Sono la risposta al Rosatellum, sono la risposta al Mattarellum rovesciato, sono la risposta al Fianum. Se scriviamo così, la gente, sapete che vuole? Vuol vedere le tette di Belen. Meglio quello del Rosatellum. Perché? Non perché il Rosatellum non sia importante, è fondamentale, ma spiegatecelo. Fatecelo capire, io non l'ho capito. Va bene, lo capiremo più avanti. L'Avvenire, che è uno dei giornali che si leggono con minor piacere per la deriva che ha preso con il direttore Tarquinio, che oggi è bastonato, adesso no, bastonato, dai, bastonato, è giornalisticamente sfottuto dalla verità, ve lo faccio leggere, vale la pena di leggerlo, come questo direttore altezzoso, oggi ci spiega la metamorfosi leghista. E il titolo è del giornale dei sacerdoti, dei vescovi italiani, come è triste quel blu. Come è triste quel blu. Ormai i sacerdoti italiani, i vescovi italiani, scusate, non i sacerdoti, ovviamente si affidano più alla Repubblica, che ieri titola sul patto Gentiloni Vaticano, tutto contento solo gli ussoli, che ha ovviamente leghisti alla destra, i conservatori, perché quelli gli fanno schifo all'avvenire di Tarquinio. Poi però mi chiedo, è la stessa Repubblica che ritrova con Fittipalti un documento segreto, col quale si dimostrerebbe che in 15 anni si sono state spese 480 milioni di lire per sostenere Emanuela Orlandi, scomparsa e morta probabilmente all'estero. Quel documento poi risulta falso, almeno così dicono tutti quanti quelli che hanno avuto a che fare. E oggi la stessa Repubblica che difende lo ussoli, che è contenta dei cattolici, oggi in un pezzo di Fittipaldi dice il metodo Fittipaldi, come a noi del giornale ci definirono col metodo boffo, su un documento che era falso, ma su una notizia che era vera. E allora che cos'è il metodo Fittipaldi? Il documento può anche essere che sia falso, ammette il giornalista che sta lanciando il suo libro che contiene quel documento che lui oggi ammette che può essere falso. Ma lo stesso fatto che ci sia un documento falso che parla di quelle cose, dimostra il casino in cui si trova la chiesa. Allora, se domani trovano a casa mia un documento falso che è finito a casa mia o che qualcuno dice che era a casa mia, questo, il documento è falso e che dice che io, non so, ho capelli biondi, questo dimostra il casino della capigliatura di Nicola Porro. No! Quello dimostra che è un documento falso! O è vero o è falso! Quando ci siamo occupati del metodo boffo, giornali di tutto il mondo, non abbiamo avuto questa specie di solidarietà dell'avvenire, che oggi non c'è neanche una riga su questo in prima pagina, almeno poi ho visto anche in altre pagine e mi è sfuggito. C'è stata una specie di condanna, una fatva che ancora diura su Feltri e il metodo boffo. Ma il metodo Fittipaldi, il documento è falso, però dimostra il casino che c'è nella chiesa. Quando si spara sulla chiesa in Italia non c'è mai problema, mica è un imam la chiesa. Sulla chiesa si può dire qualsiasi cosa, anche i documenti falsi. Andiamo avanti così. Poi mi diverte che laico, liberale, devo io difendere la chiesa. È una cosa che mi fa venire il sangue al cervello. Ryanair invece è la storia degli equivoci, perché Ryanair oggi il pezzo più interessante lo fa Ettore Livini su Repubblica, perché di Ryanair sapete tutto, 400 mila passeggeri lasciati a terra, 50 voli al giorno cancellati. Allora uno dice, scusatemi, ma se ci sono tutti questi passeggeri a terra per un motivo di ferie, calendari che sono cambiati, dimostrano l'incapacità manageriale di questi fenomeni irlandesi, perché fanno le regole a tutti quanti, fanno le pulce a tutti quanti, sfottano tutti quanti, loro non sanno gestire le ferie. Francamente speriamo che sappiano gestire la sicurezza negli aerei. Per ora facciamo le corna, ma uno che non sa gestire le ferie e che i piloti prende e riprende, qualche tema io me lo porrei. Ma comunque sia, anche qui, ragazzi, per quale motivo? Intanto ci si deve porre dei problemi, ci si fa delle domande. Com'è possibile che non sapessero delle ferie? Com'è possibile che questa cosa è inaspettata? Com'è possibile che questo sia un problema per 430 voi, una società che fa 1,3 miliardi di euro di utili l'anno? Non è possibile, non è immaginabile un errore di questo tipo. E ancora, per quale motivo non sappiamo esattamente quali sono gli aeroporti che sono Roma, Bergamo, che sono due hub fondamentali? Perché non sappiamo bene dove sono gli aeroporti dove verranno cancellati i voli? Perché non li sanno neanche loro. Non ve li dicono, non li sanno neanche loro! Cioè questo è un sistema incredibile, incredibile. Io vi dico soltanto una cosa, quando viaggiate a Ryanair, pensate a Ettore Livini, oggi su Repubblica, che vi racconto un'altra storia, e cioè che gli aeroporti italiani pagano Ryanair, e non solo Ryanair, per atterrare negli stessi aeroporti. 150 milioni, calcola Ettore Livini, sono dei contribuenti italiani che sovvenzionano Ryanair. All'Italia ne abbiamo dati certamente molti di più, ma 150 milioni di aeroporti italiani non sono poco. Ovviamente, questi soldi non sono spesi malissimo, perché sono spesi per incentivare l'arrivo di passeggeri che altrimenti non arriverebbero in quell'aeroporto. E' evidente. Io di fatti non sono contrario di per sé a fare il marketing territoriale, come oggi lo chiamano gli aeroporti, però una cosa me la dovete dire. Quanti vantaggi ho un'analisi di costi e benefici? Cioè, se io pago 150 milioni, quanto indotto mi danno, quante tasse in più pago, quante tasse in più ricevo dagli stranieri che arrivano, quanto traffico in più genero? Se questo non viene calcolato, è uno di quegli aiuti di Stato che l'Europa dovrebbe mandire. Ultima cosa, oggi se ne occupa il Sole 24 Ore, sanatoria, non solo il Sole 24 Ore, è l'apertura del giornale, sanatoria sui contanti, era già prevista la volontaria di disclosure dell'anno scorso, ma l'anno scorso c'era la Orlandi che fece di tutto per non volerla. Quest'anno c'è Ruffini, l'uomo di Renzi, messo alla guida di Equitalia, e agenzia delle entrate, la sanatoria sui contanti sostanzialmente se tu c'è un malloppone in cassetta di sicurezza, oggi paghi l'80% per ripulirtelo, dal 60 all'80%, con la sanatoria pagherai molto di meno, quindi il nero sotto il materasso sarà più conveniente tirarlo fuori dal materasso e dichiararlo pubblicamente. Giusto o sbagliato che sia, questo porterà certamente molto più gettito rispetto a quello che abbiamo raschiato il fondo sostanzialmente, pur di fare soldi, anche questa è una buona operazione per il fisco italiano. Che altro vi voglio dire? Dice Carlo, ciao Nicola, chissà quando Ryanair prenderà il lungo raggio di Elitalia, addio, addio ve lo dico io, vi do appuntamento a domani con la zuppa di poro, questa sera non c'è Matrix martedì, perché eccezionalmente andremo in onda mercoledì e giovedì, mercoledì e giovedì in seconda serata, non martedì, non questa sera, stasera si va a ballare. Ciao! Ciao!